Promozioni e bocciature per i politici amministratori della nostra regione nell'indagine di Abruzzo Monitor effettuata fra il 28 gennaio ed il 1 febbraio scorsi. A livello politico il giudizio sull'operato del presidente della regione Luciano D'Alfonso è risultato positivo per il 43,1% dei cittadini intervistati e negativo per il 56,9%. Un risultato comunque migliore rispetto a quello registrato nel 2015. Fra gli assessori e politici regionali la palma del migliore spetta al vicepresidente della regione Giovanni Nolli con un indice di gradimento del 21,6% seguito dall'assessore alla sanità Silvio Paolucci con il 18,8% e da Andrea Gerosolimo con il 17,1%. Quarto posto per l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco con il 15,8% seguita da Donato Di Matteo con il 13,8% e da Dino Pepe assessore alle politiche agricole con il 12,9%. Fra i consiglieri regionali di opposizione hanno ricevuto il maggior indice di gradimento Paolo Gatti di Forza Italia con il 26,1% e Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle con il 24%. Giudizi contrastanti per i quattro sindaci dei capoluoghi di provincia. Il primo cittadino dell'Aquila Massimo Cialente ha ricevuto il giudizio migliore con un 56,2% di gradimento seguito dal primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio con il 56,1%. Staccati due sindaci di Teramo e Pescara. Maurizio Brucchi ha ricevuto il gradimento nell'ordine del 45,1% mentre il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha avuto il 34,1%. Infine il 35,2% degli abruzzesi intervistati ha affermato che nella nostra regione si vive bene mentre il 27,3% pensa si viva male. Il resto degli abruzzesi ha affermato di vivere né bene né male.